raga raga ehi dimmi dimmi ehi venite un attimo simo oh oh raga ci siete vi ricordate che prima avevo il sentore che qualcuno avesse portato via questo cofanetto misterioso del game master ok ho iniziato a girare per la casa per i fatti miei visto che nessuno mi aiutava e quindi avevo ragione qualcuno è entrato è entrato qualcuno e ha preso il cofanetto ne ho la certezza sai perché guardate cosa ho trovato qualcuno è entrato in casa sono sicura e questa ne è la prova non lo so è quello che voglio sapere secondo me vuoi che ti dico l'ha dimenticato chi è entrato in casa secondo te cos'è sta roba secondo voi che cavolo è sta roba non lo so io non la toccarei dice che pericoloso oppure la toccarei non lo so potrebbe essere adesso no no aspetta dovresti aspettarmi infatti appunto cosa ne sappiamo cos'è forse è vero non sappiamo cos'è cerchiamo un altro però se ce l'ha fatto trovare un motivo ci sarà bravo forse ce l'ha fatto trovare apposta se fosse un altro enigma magari è pericoloso no aspetta aspetta magari è pericoloso fidati ha ragione oh raga no dammelo a me non te lo do a te l'ho trovato io e allora adesso voglio vedere che cosa che cosa serve l'ho trovato io non mi avete aiutato adesso scopro io cosa serve potremmo ragionarci prima potresti provare a darla a paolo oppure darla a me e vedere se funziona in in qualche maniera ammari semplicemente dell'acqua o detergente se non sappiamo di che cosa si tratta magari prima bisogna fare dei ragionamenti ci bisogna capire sì però tanto tenerlo in mano cioè non penso che ammazzi qualcuno magari serve per spruzzare da qualche parte almeno capiamo subito non funziona non funziona e così è un modo per cosa potrebbe servire per fare le tecniche parete su qualche parete per fare dei tempi sono qua perché non provi a spruzzarlo sulla telecamera vi bene vicino a simone provo a spruzzarlo sulla telecamera potrebbe essere un'idea tipo non penso che sia una roba per pulire la videocamera tipo una sostanza che magari serve per vedere qualcosa mi è venuta un'idea cosa dove abbiamo messo le maschere non correre con quell'oggetto in mano potresti dare un attimo a me magari no no fammi provare fammi provare sulle maschere sulle maschere prova 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 magari magari è un tipo un qualcosa che raga se facciamo altri 500 tentativi quel liquido magari serve per qualcosa specifico e consumere del tutto esatto bravo bravo assolutamente la sua maschera no aspetta aspetta fermi tutti farmi tu con magari io ho un'idea vai magari serve proprio e se fosse da spruzzare proprio addosso 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 cioè metti il caso che serve a a qualcosa da spruzzarsi proprio in faccia in faccia in faccia magari per servire per per vedere per non lo so ma magari a me a me a me nostra visione scusate a me a me da quel quella quell'idea lì a me no è un barattolo bianco allora ti fa venire perché provo un secondo provo un secondo a spruzzare in faccia in faccia a me ma non è un'idea stupida hai già provato maschera parete piscina un foglio su un foglio su un foglio un foglio a caso no dai ha ragione già non facciamo foglio no perché non ho trovato foglio ascolta ascolta fidati prova a sparartelo in faccia a me magari salva qualcosa no raga ti avevo addosso ho paura allora non lo so vai spruzza cosa potrebbe succedere eh non lo so ho paura spruzza ho state vista a me si vai vai uno due al tre vai uno due tre no 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 ho mica addosso ho paura ho paura veramente ho paura senti provalo tu simone allora dai forza ma raga dai aspetta ragioniamo magari non è anche questa la soluzione cioè eh no non lo so se ha messo di sto coso se ha messo di sto coso va bene se non se la sente prova tu simo dai no 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 perché se proviamo a ragionare proviamo a ragionare magari non è questo lo scopo di questo parato non penso che sia una roba per spruzzarti in faccia dai era la dietro ma che enigma è la dietro che enigma è la dietro era no no non è da spruzzare in faccia sicuramente tienilo sicuramente quello che servirà se non provi non lo sai sai che cosa vi dico invece volete sapere che mi sono rotta le scatole mi sono veramente rotta le scatole e da una vita che siamo entrati qua dentro questo game master non si è ancora fatto vedere e noi continuiamo a stare dietro ai suoi stupidi giochetti alle sue stupide idee che ci fa apparire barattoli non barattoli no raga noi siamo venuti qua perché dobbiamo scovare noi game master ok quindi adesso basta anzi sai cosa ti dico game master che se ci stai ascoltando apri bene le orecchie e ascolta le mie parole fatti vedere fatti avanti siamo stanchi dei tuoi giochetti dei tuoi enigmi non ne possiamo più quindi se questo è un altro dei tuoi enigmi e più avanti ci volevi far trovare chissà che cosa bene trova un altro modo perché questo qua non non esiste più finito ora dovrò trovare un altro modo ma non ce n'è proprio neanche un goccio no non ce n'è neanche più un goccio sta succedendo qualcosa di molto strano dovevi proprio dimenticata lì davanti a lei l'avrebbe trovata ovviamente continuano a girare per la casa a cercare roba ce ne resta una ora e dobbiamo farli fuori più velocemente possibile la soluzione la dovrei trovare te la soluzione è dividerli la soluzione dividerli con una boccetta e basta sì perché prima dobbiamo fare fuori uno e poi dobbiamo fare fuori l'altro senti per me sarà facile prendere in disparte tempi lei ha già capito qualcosa ha già capito che c'è qualcosa di strano l'ha salutata apposta il piantino è un pirna lo dobbiamo distruggere e allora partiamo da me aspetta se loro hanno sicuramente tramato qualcosa adesso di piedi lo andrà a dire a quell'altro io prendo la palla al palzo e chiamo in disparte crede cederà non puoi fallire no gli spruzzo questo in faccia ma tu mi devi stare subito lì perché sei cane quell'altro se ne accorge non abbiamo tanti tentativi il piano è questo deciso sì ma abbiamo poco tempo perché poi deve esserci un gioco finale cian cian la senti la voce di debby 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 oddio sono vicini allora non siamo esatto debby simo debby simo ma sti buchi non si aprono io ho solo pareti nere non riesco a debby ha la mano appena girarmi debby loro devono sbagliare la prova finale se sbagliano la prova finale noi prenderemo esattamente il posto nelle loro vite attuali questo è chiaro questo qua ormai che è palese loro devono sbagliare silenzio 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 nati persano silenzio cosa fate niente stavamo parlando un secondo simo non so simo sarà su raga perché non gli date una mano noi oggi io e simo ok stavamo cercando di capire come possa il game master sapere tutte le nostre mosse stavamo cercando di scervellarci abbiamo provato in ogni modo a vedere se ci fosse un meccanismo che ci potesse sorvegliare perché le videocamere di sorveglianza le abbiamo accese noi quando siamo arrivati non c'era l'elettricità l'abbiamo accesa noi ci deve essere un modo per forza raga e finché non lo troviamo secondo me non siamo al sicuro non riusciamo a capire c'è non riusciamo neanche a parlare tra virgolette con tranquillità perché potremmo essere sorvegliati adesso in questo momento con chissà quale tecnologia chissà in che modo strano capite io mi metterei a fare questa cosa perché dobbiamo fare attenzione se no non siamo liberi non possiamo hai capito non possiamo fare io voglio avere il controllo di tutto abbiamo fatto irruzione qua dentro ed è giusto che controlliamo tutto lui sa che siamo qui e dobbiamo capire come fa a sapere stasera dobbiamo dobbiamo trovare trovare un modo dobbiamo dobbiamo provare tutte le soluzioni si chiarissimo ok chiarissimissimo tutto quanto ok però se c'è una cosa che mi hanno insegnato in moltissimi anni è che non c'è niente di meglio per ragionare meglio che del cibo posso essere d'accordo su questa cosa cosa volete mangiare c'è del sushi sì ti va benissimo del sushi debbi ti va benissimo del sushi no io non mangio il sushi simone ti va benissimo del sushi a te possiamo prendere una pizza volendo una pasta si ok allora facciamo una cosa facciamo una cosa quanti sushi voi mangiate tranquilli ok fate come volete io e Simo ci arrangiamo intanto magari finiamo tutto cosa che stiamo facendo perfetto c'è lì pure tutto quello che vuoi e poi io ordino tranquilli mangiate tranquilli io e Simo ci arrangiamo va bene non avevi lo spuzzino dietro cosa c'è Simo c'è un problema quale un grosso problema ti ricordi che oggi Paolo ha detto che Gianna era strano sì ok c'è qualcosa che non va credo che anche Paolo sia strano non mi fido perché Simo non mi fido di loro erano sotto stavano parlando io sono arrivato dalla spiaggia ok a parte gli atteggiamenti molto strani ma vabbè lasciamo perdere gli atteggiamenti ok io credo che quei due là sotto non siano il Paolo e il Gianna che conosciamo vabbè vabbè aspetta guarda che una roba del genere non è possibile fidati no 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 fidati non sono loro perché c'è cosa che ti fa pensare una roba del genere scusa perché Paolo non mangerebbe mai e poi mai il sushi a Ciao